Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante volume appena pubblicato da Rubettino dal titolo Il castello di Condoianni, storia e restauro di Vincenzo De Nittis, che noi abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite e a cui io lascio immediatamente come mia abitudine la parola per non rubarvi tempo e sentire cosa ci racconta di questo castello di Condoianni. Prego architetto, a lei. Sì, grazie. Entro subito nel vivo, insomma, dove si trova Condoianni, il castello di Condoianni. Condoianni è un piccolo borgo medievale nella provincia di Reggio Calabria, sud Italia. Questo borgo nasce all'ombra di una rupe che è stata nel tempo fortificata e sulla quale è stato poi costruito questo castello a partire dal periodo normanno e con la fortificazione, periodo normanno in poi. Il volume è fresco di stampa, è stato appena pubblicato e per i tipi di Rubettino Editore e grazie anche ad un finanziamento dell'amministrazione comunale, in questo caso di Sant'Ilario dell'Oionio, di cui Condoianni e il Condoianni fanno parte, ed è stato pubblicato in occasione dei lavori di restauro del castello di cui mi sono occupato nel corso di questi ultimi anni. Sono stati appena conclusi, per una parte, per un lotto di intervento e quindi questa è stata l'occasione per, come dire, per la prima volta fissare alcune, come dire, importanti anche notizie storiche inerenti il castello e l'insediamento sulla rupe e poi affrontare alcune tematiche inerenti anche il restauro architettonico. Infatti il volume ha una doppia anima, si compone di due sezioni. Da una parte la storia, la storia dell'insediamento di questo luogo fortificato a partire dall'undicesimo secolo in poi, e l'altra sezione che riguarda proprio le opere di restauro del primo lotto di intervento, che in questo caso ha interessato la torre normale, la cisterna del periodo normano, e la messa in sicurezza delle altre parti della cortezza edificata in seguito e anche dell'area adiacente, per una valorizzazione e fruibilità del sito. La sezione della storia riguarda essenzialmente tre momenti. L'insediamento rupestre, con le prime forme, distanziamento di altura nell'alto medioevo, la conquista e la fortificazione normanna e poi la fortificazione palazzo baronale dopo i normanni. E poi adesso vedremo magari questa prima parte per poi passare alla seconda sezione del volume, che è quella proprio che riguarda il restauro. La rupe di Kondoianni, innanzitutto dobbiamo capire anche il luogo insomma in cui è situata questa rupe, cioè in prossimità del mare, della costa ionica, nei pressi di quella che un tempo molto vicina, era l'antica città greca di Locri e Pizzefiri. Nel corso, diciamo, dopo il settimo, ottavo secolo dopo Cristo, questi luoghi, questi insediamenti, prima greci, poi romani, vengono abbandonati e quindi diciamo, viene popolato anche la parte più interna, le prime propaggini collinari del territorio, senza dilungarci molto e per rimanere sempre qui a Kondoianni, ho avuto modo di identificare una serie di cavità rupestri di grotte antropiche che sono state scavate sui fianchi della rupe. Per un versante, questa rupe è stata occupata anche nel secolo, nei secoli a seguire, sicuramente dopo il, verso il XVII-XVIII secolo, dal nuovo insediamento che ha anche occultato molte di queste cavità antropiche. Invece il fianco sud della rupe è rimasto libero dall'insediamento. E quindi queste grotte sono ben visibili su quel fianco sposceso e le ho individuate e questo dato, unito anche alla scoperta sul pianoro della rupe di silos per granaglie, ne era già noto uno di tipo a fiasca molto grande e sono di silo delle cavità scavate nella profondità della roccia dove venivano conservate le granaglie e sono stati individuati altri due di forma cilindrica e di cui uno ai piedi della torre normanna è ancora abbastanza integro e l'altro invece occultato dal fondo della cisterna normanna. Questo è un indice di improbabile insediamento di tipo rupestre che precede il periodo normanno. Durante, diciamo, il periodo della conquista normanna poi, che si, come dire, consolida nel 1059 con la conquista di Reggio Calabria, si ha l'edificazione e quindi probabilmente verso la fine dell'undicesimo secolo o molto probabilmente in un periodo in cui poi i normanni guidati da Roberto I il Guiscardo e poi in Calabria in Sicilia dal fratello, dal conte Ruggero, i due fratelli da Ottavilla e quindi, dicevo, verso la fine dell'undicesimo secolo o più probabilmente anche all'inizio del dodicesimo viene edificata la torre in sommità alla rupe su base quadrata e l'antistante cisterna. Non si hanno tracce di fortificazioni al contorno della torre della cisterna dello stesso periodo coereo, almeno finora non sono state rintracciate e qui probabilmente era un sistema difensivo anche costruito con appare di linee, quindi recinti e sistemi di difesa di questo genere. Per costruire questa alta torre a cui si accedeva solo dal primo livello e non dal livello, diciamo, di terra. Vengono utilizzati anche blocchi della, soprattutto noi ritroviamo negli spigoli della torre, di calcarenite, di calcare squadrati provenienti dall'anticalocri plizifidi, dei monumenti dell'anticalocri plizifidi. Questo lo sappiamo perché questi blocchi recano segni di anatirosis, cioè di una particolare tipo di lavorazione che fa appunto datare questi blocchi angolari all'epoca probabilmente classica o anche ellenistica. Il periodo normanno è un periodo abbastanza diciamo importante per lo sviluppo delle fortificazioni anche in questo territorio e questo, dicono gli anni, ne è una testimonianza anche abbastanza importante. Durante la fase del restauro, ecco, qua si intreccia la storia con i dati, diciamo, proprio tecnici che riguardano anche gli interventi di recupero. Durante le fasi di restauro, prima del restauro, sono state condotte una serie di indagini, indagini tipo termografico e indagini anche archeometriche sui materiali e sulle malte. La cosa interessante è stata anche quella delle indagini sulle malte che hanno confermato l'eccezionale qualità della malta in linea con altri esempi di malta riferita a costruzioni della stessa epoca e la contemporaneità dell'edificazione della cisterna e della torre perché sono lo stesso tipo a base di calce naturalmente, calce naturale tipo idraulico. Le indagini termografiche hanno anche confermato l'edificazione. In un solo momento non ci sono soluzioni di continuità nelle murature degli elevati sia della torre e sia dell'antistante cisterna che aveva una buona capacità idrica, 100.000 litri. La cisterna è a forma rettangolare, era coperta da una volta a botte e è chiaro che la guarnigione che era, come dire, stanziata a difesa di questo presidio e del territorio circostante aveva anche necessità di una riserva idrica importante. Ecco perché spesso, quasi sempre, troviamo le cisterne accanto alla torre nel periodo normanno e abbiamo diciamo anche tanti esempi di queste tipologie in Calabria. Gli esempi di torri dello stesso tipo, su base quadrata, sempre in provincia di Cosenza, le ritroviamo a Scribla, in Calabria, in Spezzano albanese, in provincia di Cosenza, le troviamo a Scalea, cioè il castello con il torri dello normanno, il torri dello normanno, diciamo su base quadrata o anche rettangolare, a volte lo troviamo anche a Cirella, sempre in provincia di Cosenza, ad Aieta, sempre in provincia di Cosenza, a Squillacec, a Catanzaro e ad Amendolea, in provincia di Reggio Calabria. Cosa succede dopo il periodo normanno? Io vado avanti velocemente per non dilongarmi troppo. L'insediamento, come dire, fortificato, poi entra a far parte, come dire, nel corso della storia, della storia feudale, insomma, anche di questo territorio, con l'avvicendarsi di varie signorie, a partire dai Ruffo, che, diciamo, intorno alla fine del XII, seconda metà del XIII secolo, conquistano anche questi territori limitrofi a quelli di loro possesso, quindi conquistano, come dire, con gli anni entra a far parte del territorio dei Ruffo e da lì in poi, come dire, la fortezza si evolve. Si evolve con la costruzione di un, come dire, di un recinto intorno alla Ruffo, in un recinto fortificato, con l'edificazione di muri rettilinei, di torrioni angolari, a base troncoconica, di muri merlati, e della configurazione, della fortificazione e del palazzo baronale, che poi segue nel tempo, anche, diciamo, la cui edificazione segue nel tempo, sullo stesso sito si hanno notizie da due apprezzi, fondamentalmente, che ci descrivono molto bene lo stato della fortificazione nel corso del 1700 e anche la conformazione del palazzo baronale. Questo, diciamo, questo sito passa per varie vicende in mano ai Carafa, principi di Roccella nel 1588 e a loro rimane, fino all'eversione della feudalità nel 1806. Quindi, del palazzo baronale, purtroppo, non rimane nulla, perché in seguito, gli apprezzi lo descrivono anche interventi di recupero, di restauro, interventi di ripristino al palazzo, ma probabilmente abbiamo la certezza dello stato anche in rovina prima del terremoto del 1783, che poi segna un colpo durissimo e probabilmente da lì in poi viene abbandonato sia il palazzo, sia la fortificazione perde il ruolo, diciamo, che aveva di presidio e si erano perse completamente le tracce. Ma le operazioni di restauro hanno avuto anche inizio con una serie di indagini su tutti i vari livelli del pianoro della Ruppe, quindi anche con l'indagine geoarcheologica, che consente di vedere, per usare dei termini anche molto semplici, cosa c'è al di sotto del piano di Calpestio, cioè cosa c'è sottoterra fino a diversi strati di profondità. Sono delle tecniche che si usano prima di effettuare gli scavi archeologici, in alcuni casi, per capire esattamente, anche attraverso poi i carotaggi, quali anomalie restituisce il terreno. Quindi dove ci sono delle forti anomalie, segnalate dalle indagini geoarcheologiche, e lì ci sono delle strutture sottoterra. E molto spesso si ha anche evidenza dell'orientamento dei muri, dell'allineamento dei muri, e in quei punti vengono fatti anche dei carotaggi, le cosiddette carote, delle perforazioni nel terreno, che restituiscono poi una stratigrafia e quindi fanno capire esattamente come poi si può evolvere lo scavo archeologico. e cosa si può trovare. Per cui abbiamo rintracciato le teste dei muri del palazzo e abbiamo, diciamo, in questo senso, è stata avviata la fase dello scavo archeologico per rintracciare le fondazioni del palazzo, ma si è accorti che si era a livello del piano terreno e che esistono strati anche inferiori, cioè ambienti ipogei che corrispondono a livelli inferiori del palazzo. Non sappiamo bene ancora perché ci si è limitati soltanto a rintracciare i profili delle murature. E così poi la campagna di scoperta, insomma, delle nuove parti di fortificazione ha messo in luce non solo i resti del palazzo baronale, ma anche una, direi quasi, un'altra metà del castello, delle fortificazioni del castello, con... Io ho avuto la possibilità di scoprire, ma perché erano avvolti, diciamo, da sterpaglie, ma da... inglobati all'interno di altri edifici, e ampie porzioni di strutture murarie della cortezza, nuovi brani, quindi, del recinto murario, ma non solo un bastione su base quadrata, avvolto, possiamo dire, in un altro edificio contemporaneo, più moderno, di scarsa qualità, ma anche un grande torrione angolare, veramente importante, anche questo, che era stato inglobato in altri, in altri, diciamo, edifici, di poco conto. E non solo, ma anche uno stemma graffito su queste nuove porzioni, ora identificate, di muratura, che fa riferimento proprio a Carlo Maria Carafa, quarto principe di Roccella, barone di Condoianni, dal 1671 al 1695. e questo ci consente di datare o l'edificazione di quel tratto di fortificazione, quindi di muri vicinta a quella data, oppure un intervento, quindi un intervento di ampliamento della fortezza per opera di Carlo Maria Carafa nel terzo quarto del XVII secolo, oppure un intervento di, come dire, di restauro, di migliorie fatte dello stesso principe, se non di nuova edificazione. Una cosa anche interessante è stato l'incrocio dei dati, diciamo, conseguenti alle operazioni di restauro con quelli di archivio, anche le notizie del, diciamo, delle fonti documentarie e dei documenti di archivio, che ha consentito, per esempio, di verificare con esattezza quanto riportato nei testi, per cui ho identificato le linee del fossato, l'esistenza di una strada coperta, che era una strada posta, una striscia posta al di là del fossato, quindi all'esterno delle mura, coperta dal, perché coperta dal fuoco amico, dove si appostavano, appunto, i soldati in difesa, in avanguardia, in difesa della linea del fossato stesso. Per esempio, ho identificato anche una nuova chiesa, finora ignota, ma nota soltanto dai documenti di archivio, di cui rimane traccia, diciamo, di parte della facciata e anche delle parti interne, una volta botte. sono tutti elementi che nel futuro potranno essere ulteriormente indagati e potranno dare nuove origini a nuove ulteriori scoperte. La cosa interessante è stata anche il fatto di aver avuto la possibilità di interpretare anche le porzioni di murature esistenti, risalenti probabilmente alla fine del XIV secolo, inizio del XV secolo, dove per esempio in prossimità di un muro merlato ho riconosciuto quelli che sono i segni degli apparati a sporgere linei che appunto anticipano per la difesa diciamo accaduta dall'alto che anticipano per esempio come dire i beccatelli in un certo senso perché sono quegli apparati che poi si diffondono diciamo dall'inizio del XIV secolo in avanti che sono quegli apparati a sporgere in muratura sorretti dalle mensole in pietra. ecco in questo caso io ho rintracciato tutti i fori di incasso di quella che è il sistema che anticipa gli elementi aggettanti in pietra cioè i beccatelli e che erano i fori per l'alloggiamento degli apparati linei a sporgere sia interni che esterni alla linea di fortificazione con la presenza delle merlature. questo per quanto riguarda diciamo in sintesi estrema la sezione della storia dell'insediamento fortificato e poi il volume tratta per appunto il restauro con una prima parte che riguarda tutte le indagini dall'indagini geologiche gearcheologiche termografiche e archeometriche a cui ho già accennato e che sono utili anche per gli interventi futuri perché comunque essendo stato indagato tutto il pianoro del castello a diversi livelli rappresentano documentazione utilissima per le indagini future e ho già detto delle indagini termografiche che appunto hanno consentito di come dire confermare il fatto che comunque il torrione sia stato la torre massio di epoca normanna sia stata edificata come dire in un unico momento non ha soluzioni di continuità l'apparato murario inelevato almeno quello che è rimasto quello che è superstite se non per un livello di piano un soffitto chiamiamolo così un solaio che è in pietra che è una particolarità costruttiva abbastanza strana cioè formato a capanna ma è in calcio e pietra e che non appartiene alla tipologia normanna e che le indagini termografiche hanno evidenziato con una soluzione di continuità tra le murature perimetrali e questo solaio con un soffitto interno a capanna e frutto probabilmente di un intervento successivo al periodo normanno e anche la diciamo la assenza di soluzioni di continuità nelle murature della cisterna quindi anche la cisterna è stata edificata in un unico momento e come dicevo le indagini sulle malte le indagini arcometriche e petrografiche sulle malte hanno rilevato l'identicità tra le malte della cisterna e quella del torrione quindi sono anche in questo caso contemporanee e tipologicamente appartengono al periodo normanno e una sezione che è interessante è la affronta la metodologia del rilievo il rilievo che è stato realizzato diciamo con una tecnologia abbastanza avanzate e con l'uso di droni laser scanner ma anche tanto soprattutto il rilievo tradizionale manuale diciamo che consente una come dire un grado di approfondimento ben diverso per quanto la tecnologia possa essere avanzata la visione diretta e continua del manufatto consente sempre di avere una come dire una conoscenza maggiore del del monumento e quindi viene affrontato dal punto di vista metodologico e l'interesse sono anche queste restituzioni fotogrammetriche dei diciamo fatte con il drone che restituiscono punti di vista altrimenti difficilmente come dire accessibili all'uomo e poi viene affrontata tutta la sezione relativa alla tecnica diciamo così più tecnica relativa all'intervento proprio di di restauro vero e proprio con l'evidenza degli interventi sulla torre Mastio e sulla cisterna e si è voluto dar conto dell'intervento di restauro quindi l'apparato come dire conografico e anche fotografico mostra un ante operam e un post operam dallo stesso punto di vista quindi si ha diretta contezza dell'intervento del prima e del dopo e quindi poi si può anche giudicare il tipo di restauro architettonico che è stato un restauro operato è stato un restauro abbastanza difficile per lo stato pessimo di conservazione delle strutture soprattutto della torre nella parte più alta esposta chiaramente crollata per la metà con i crolli all'interno della torre stessa a quelle altezze e con uno stato di degrado delle murature veramente avanzato e le operazioni sono state segnite da ditte specializzate naturalmente di restauro specializzate ma con la diretta presenza costante anche di un restauratore di beni culturali che ha garantito l'alta qualità anche del risultato e devo dire in perfetta sintonia anche con la sovrintendenza per i beni architettonici archeologici e paesaggistici della metropolitana di Reggio della provincia di Vipo Valencia che hanno seguito molto da vicino tutte le operazioni di restauro dei manufatti anche dal punto di vista delle indagini e dello scavo archeologico che hanno messo in luce tutta la zona diciamo antistante la torre Mastio la cisterna una torre troncoconica angolare per una parte e l'area del palazzo baronale questo diciamo è in sintesi il risultato delle operazioni e come dire che attenderanno nuovi finanziamenti per il prosieguo dei lavori che mi auguro vengano presto bene io direi che è stato decisamente esaustivo quanto sono durati i lavori di restauro allora il progetto nasce nel 2018 poi i lavori hanno avuto inizio diciamo si sono conclusi a dicembre del 2021 e sono durati un anno e mezzo quasi due anni e il sito ben pervio è abbastanza difficile dal punto di vista anche logistico poi la cosa ecco molto interessante è in assoluto il primo intervento quindi la delicatezza delle operazioni l'approccio anche la delicatezza delle operazioni è anche importante perché ecco perché c'è stata questa grande campagna fortemente evoluta una campagna di agnostica iniziale perché poi dopo non ha senso farle le indagini e tutto quanto quello che è stato possibile indagare con quei fondi naturalmente è stato fatto anche in visione di una possibile intervento di un possibile intervento futuro quindi molti dati sono stati acquisiti e e mettono le basi per futuri interventi per esempio l'intervento è stato limitato alla torre Mastio e alla cisterna all'accessibilità fruibilità in sicurezza dell'area e alla messa in sicurezza di porzioni importanti dei resti delle murature per esempio un muro rettilineo con merlature superiore è stato messo in sicurezza soltanto messo in sicurezza è una rupe che ha problemi anche dal punto di vista geologico per cui andrebbe affrontato è stato fatto in parte ma andrebbe affrontato anche un discorso di più ampio respiro anche in merito alla visibilità diciamo alla fruibilità non solo del pianoro ma di tutto l'intorno perché lì è interessante scoprire sia quel percorso che porta anche alla visibilità delle grotte antropiche e sia diciamo il retro diciamo del castello dove non c'è l'insediamento reca i segni di importanti estrazioni di cava del materiale di cui si compone la rupe una cosa che non ho detto tra le tante è che a un certo punto questa questa rupe si trovano molti non sono grotte diciamo in senso stretto con segni di insediamento ma sono delle dei cunicoli delle grotte cunicolo che sono state scavate per l'estrazione del salmitro queste grotte poi venivano chiuse e si formava una sorta di come dire di muffa insomma che poi veniva trattata in un certo modo e da lì veniva costruito il estratto il salmitro che veniva utilizzato per la realizzazione della polvere da sparo e a un certo punto diventa un'importante attività anche dal punto di vista economico ma c'è diciamo intorno al seicento un divieto di estrarre il salmitro da parte diciamo del principe Carafa e quindi di creare nuove cavità forse probabilmente perché l'estrazione era diventata così importante poteva anche minare la stabilità della rupe stessa ecco quindi è tutto un sito che diciamo è interessante nell'immediato contesto della rupe ma il sito è visitabile è aperto al pubblico sì infatti adesso diciamo sono state messe è stato messo in sicurezza la parte dell'accesso pedonale è stata recintata l'area e appunto il prossimo 26 agosto ci sarà lì un evento con la presentazione del volume proprio l'amministrazione comunale ha voluto come dire questo evento in quel luogo quindi è visitabile sì anche illuminato in notturna si può andare anche in notturna quindi diciamo c'è stato uno studio dal punto di vista anche abbastanza importante il lumino tecnico per la valorizzazione diciamo anche notturna del monumento bene allora io invito tutti quelli che hanno il piacere e il desiderio di andare a visitare il castello di Condoianni di munirsi del libro dell'architetto Vincenzo Denitis che abbiamo appena presentato che si intitola appunto il castello di Condoianni storia e restauro sono 142 pagine per soli 18 euro che meritano sicuramente la spesa e e poi la Calabria soprattutto nella parte ionica è da visitare comunque nella sua totale interezza io ringrazio molto l'architetto Denitis ricordo a voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione grazie architetto grazie 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 a lei e a presto allora grazie a lei 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 grazie a lei